Una notizia che aspettavamo da troppo tempo, però non è il momento adesso sicuramente di cattavittoria e fare propaganda, basta propaganda. La caserma Paulini è stata concessa ma dobbiamo trovare 8 milioni per questo progetto che non è chiaro da dove provengano e dobbiamo dare una giusta destinazione. Intanto parliamo solo della palazzina comando, ma noi vorremmo dare alla città un progetto e una visione completa di destinazione mista di tutta la caserma, perché il nostro obiettivo è prenderla tutta e soprattutto per dare una risposta all'incombente forte problema abitativo che abbiamo Fano. Qui c'è bisogno anche di un intervento di residenziale pubblica a favore delle persone, dei lavoratori e degli anziani, da mettere in collegamento anche con l'ex Vittorio Colonna, in modo tale da dare anche una risposta per gli anziani con una RSA. È un'area risorsa ma c'è tanto da fare ancora.